E allora di nuovo in diretta con Telecentro News la seconda parte, parliamo delle primarie, domenica naturalmente il popolo del centro-sinistra è chiamato a scegliere colui che ha individuato come il candidato premier per le politiche del prossimo anno e se venerdì al Paladozza di Bologna ci sarà Pierluigi Bersani, domani giovedì nel primo pomeriggio arriva in città nel capoluogo Matteo Renzi. Ma dove? E questo è il tema perché l'obiettivo era quello di salutare la città nel quartiere della Bolognina, almeno questo era parso di intendere dalla volontà dei comitati, però ci sono stati una serie di problemi che hanno portato a un cambio di programma. Allora Benedetto Zacchirolli che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi, pronto? Sono qui, ci sono, buonasera a lei, a me, a me, a tutti. Che cosa è successo con la diocesi che ha detto no a Matteo Renzi nella sede del Cinema Galliera in Bolognina, in via Matteotti a Bologna, stesso luogo dove Alfredo Cazzola si candidò con la sua lista civica nel 2009? Sì, ma guardi, adesso io non drammatizzerei più di tanto. C'è un regolamento della diocesi che è stato fatto anche successivamente a quell'incontro di Cazzola per cui sono vietati gli incontri di natura politica in tutti i territori o comunque in quelle che sono proprietà della diocesi, della Curia e quindi noi quando abbiamo preso di questo regolamento abbiamo deciso, bene, cambiamo assolutamente il luogo dove faremo l'incontro con Matteo. E avete pensato alla TC, ma anche lì non si poteva? Abbiamo pensato alla TC, ma neanche lì si poteva perché anche lì c'è un regolamento che dice che gli incontri politici no. È interessante pensare che Bologna sia una città fortemente politicizzata e poi non si riesca a trovare un posto per fare un incontro che possa accogliere qualcuno tranquillamente, però a quanto pare alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo andati al Baraccano e quindi domani sarà lì Matteo Renzi a parlare a tutti i cittadini che lo vorranno ascoltare. Zacchiaroli, era un piglio, una vostra determinazione quella di andare in Bolognina? Ma no, si era scelto quello perché era comodo, era un punto vicino alla stazione, magari qualcuno che ha un treno veloce o tenono da prendere può andare lì, insomma mi sembra che si sia molto speculato sul fattore Bolognina. E sì perché poi finite nell'unico quartiere di Bologna amministrato, gestito, governato dal centro-destra, ironia della sorte? Ironia della sorte, ma ci va bene tranquillamente, insomma il quartiere è di Bologna, non è del PDL come la città che è amministrata dal PD, non è del PD, quindi sono molto sereno, la sede è di per sé istituzionale. A che ora Zacchiaroli? Alle 15.30, viene anche lei Zangaro? Adesso vediamo, sicuramente Telecentro seguirà l'evento come seguirà venerdì quello di Bersani al Paladozza e abbiamo cercato sabato di seguire a nostro modo vendola in giro per le migliori. E allora vi aspettiamo tutti. Grazie, grazie naturalmente. Allora, Bonaccini, ha visto, sembra che la Bolognina non sa da fare per Matteo Renzi. Guardi, al di là degli aspetti regolamentativi di chi deve ospitare gli eventi, a me pare che al di là del colore necessario anche per chi fa informazione per seguire le cose che stiamo facendo, io sono convinto che ci sarà tantissima gente a vedere Bersani venerdì sera al Paladozza alle 21, un grande evento di popolo e ci sarà tanta gente, io me lo auguro, a vedere Matteo Renzi domani al Baraccà, non so, ho capito bene la sede che poi alla fine si è rivelata utile. E ci sarà tanta gente che dovrà avere molta pazienza nelle file per il disbrigo burocratico di questo volto. Noi abbiamo già superato domenica i 100.000 registrati, circa 70.000, qualcosa in più, che si sono presentati fisicamente nelle sedi della coalizione dove si raccolgono le iscrizioni, e circa oltre 30.000 online. Se tanto mi dà tanto, da qui a sabato, perché saranno aperti anche in questi giorni, e sabato quasi tutte le sedi della registrazione prima della domenica, dove peraltro ci si può presentare e registrare tranquillamente lì, io penso che arriveremo verso i 150.000. Se lei ci pensa è un dato che era assolutamente non scontato prima della partenza di queste primarie. La cosa positiva per me è che ovunque va Bersani, ovunque va Matteo Renzi, mi fa piacere anche se va tanta gente a vedere Nicchi Vendola, c'è tanta gente, guardi, queste primarie stanno dimostrando all'Italia una cosa, che siamo, adesso parlo per il partito che guido in questa regione, il Partito Democratico, la vera forza propulsiva in questo paese per poter fare le primarie, insieme agli amici di SEL e agli amici socialisti, abbiamo deciso di fare questa scelta, perché? Perché in un momento di crisi così forte tra politica e cittadini, che solo chi non vuole vederlo non lo riesce a vedere, tra eletti ed elettori, che tra l'altro il Porcello ma anche ha acuito, fare le primarie vuol dire che non vogliamo decidere in 50 dirigenti in una stanza, ma vogliamo decidere in questa regione con alcune centinaia di migliaia di persone, e in Italia... Sicuramente è anche la prova che siete ancora in grado di farlo. Siamo in grado di farlo e siamo in grado di parlare al Paese, dall'altra parte ci mettiamo le nostre facce. Io sono stato tra quelli che era d'accordo con Berlusani, che ha avuto coraggio a non trincerarsi dietro allo Statuto e a presentarsi come unico candidato al PD, ha fatto bene a volere primarie aperte, è un suo merito, ha fatto bene Matteo Renzi a candidarsi, insomma queste primarie stanno facendo crescere, come vedete, Senta, ma il suo pallino è invece delle primarie per i parlamentari. Stiamo aspettando, guardi... La legge legge orale, adesso il Senato si è dato una mostra, nei prossimi giorni si dovrebbe sapere con che legge si vota, io temo che nel voto segreto, in particolare il PDL, impallinerà qualsiasi decisione, temo si torni a votare col Porcellum, se si vota col Porcellum o avremo i collegi, faremo sicuramente, dico i collegi perché è quello che noi preferiremmo, per legare i candidati al loro territorio, noi faremo le primarie per i parlamentari. Se ripristinano le preferenze, è chiaro che avendo delle liste lunghe, quelle sono già le primarie sostanzialmente. Ci saranno i tempi, anche se dovesse essere marzo? Sì, noi pensiamo che a gennaio può essere il tempo congruo, stiamo solo aspettando, lei capisce che decidere un regolamento per eventuali primarie senza sapere con che legge elettorale si andrà è un po' complicato. Peraltro Berlusconi ha detto che vorrebbe un proporzionale puro nel quale non si capisce alla fine chi sarà alla sera. Noi abbiamo chiesto due condizioni, che alla sera si sappia chi governerà il paese, per quello chiediamo un premio di maggioranza non illimitato ma ragionevole per dire agli italiani che quelli che sceglieranno e avranno più voti alla sera potranno governare questo paese e chiediamo che i cittadini possano tornare a decidere chi li deve rappresentare in Parlamento. E però le primarie, per scegliere il candidato a premio di centrosinistra, come vede siamo gli unici che le stanno facendo davvero. Adesso vediamo perché dovrebbe arrivare, stavo guardando se avevo qualche notizia in più rispetto alla decisione. Guarda, io sono tra quelli che spera, si augura che facciano le primarie. Per me chiunque le faccia è positivo per ripristinare un rapporto con i cittadini. Il Movimento 5 Stelle vedo che avrà molta difficoltà a fare le primarie, anzi non le farà. Chi si riempie la bocca di partecipazione in questo paese, cioè Beppe Grillo, non è in grado di rispondere alla domanda che io sto facendo, a lui e ai suoi dirigenti, da alcuni mesi. Come faranno a scegliere i propri rappresentanti? Dove votano? Quando? Come? Chi può votare? Se vengono da noi gli spieghiamo come si fa. Finora dal Movimento 5 Stelle io non ho avuto alcuna risposta. Ma se qualcosa è emerso, adesso non sto qua a ribadirlo io, sarà chi non è stato eletto, chi fa già militanze di attivo da tempo. Ma gli elettori del Movimento 5 Stelle possono decidere di scegliere chi sarà il candidato premier e i loro rappresentanti in Parlamento? Se vengono dal PD gli spieghiamo come. Allora io invece a lei volevo chiedere come, visto che la questione interna al Partito Democratico, evidenziata da queste primarie, cioè chi sta con Bersani, chi sta con Renzi, accende un dibattito molto vivace, anche quest'ultima vicenda che abbiamo visto a Bologna, circa il pagamento del Paladozza e il tesoriere che le manda. Mi pare abbiano chiarito. Ieri sì, lo abbiamo anche sentito nel nostro telegiornale. Però insomma l'atmosfera diciamo che è frizzantina. Guardi, io penso che le primarie, essendo una competizione, di per sé possono essere, siccome sono competitivi, a volte anche determinare qualche asprezza. Dico sempre più che i candidati in quanto tale, a volte qualche tifoso che diventa un po' troppo energico. Perché lei siede anche in Assemblea Legislativa dove il Presidente è Matteo Richetti, uno della terra. Lei sa che io e Matteo siamo molto amici, essendo modenesi abbiamo un ottimo rapporto e come Matteo Richetti, pur Presidente di Assemblea Legislativa, legittimamente fa campagna a sostegno di Matteo Renzi, Stefano Bonaccini come segretario regionale, peraltro abbinato a Bersani quando votammo il 25 ottobre 2009, dico che voterò Pierluigi Bersani, convintamente ritenendo io Bersani la figura più adatta in un momento come questo a guidare il Paese. Ma nonostante questo, ovunque vado, dico che un minuto dopo dovesse vincere Matteo Renzi, io sarei più convinto e sostenuto di Matteo Renzi. Tenga conto che però stiamo dimostrando al Paese che ci mettiamo le facce dei candidati, che si presentano con le loro idee e lo facciamo in maniera trasparente di fronte a tutti. E vogliamo che milioni di cittadini vengano a scegliere con noi. Bonaccini, nel minuto che rimane, lei ha citato la sua origine modenese. Proprio Modena ieri si è ricordato anche nell'ambito di un'assemblea che ha visto la partecipazione di Errani e non solo. E Confindustria. E Confindustria, eccetera. Il punto a sei mesi dal sisma con il mondo delle imprese è molto arrabbiato perché aspetta risposte e un rimando insomma delle scadenze fiscali e lo stesso lo chiede la gente. C'è stato un documento definito insieme dal Presidente Errani come commissario a nome della regione e insieme alle province e ai comuni colpiti che è stato sottoscritto, deciso insieme alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati. Questo per dire l'unità di intenti che da questa regione, dai territori colpiti viene fuori. Dall'altra parte... Abbiamo detto che sono stati fatti veri e propri miracoli se penso che dopo cinque mesi non uno dei 18.000 studenti che avrebbero avuto problemi con le sedi danneggiate nessuno perderà l'anno scolastico così come non ci sarà una persona, pensi un po', che trascorrerà in una tendopoli ed erano tante l'inverno visto i problemi di rigidità e del freddo che arriva. Dall'altra parte, da gennaio 2013 abbiamo avuto la garanzia dal governo di 6 miliardi di euro che andranno a risarcire fino all'80% i danni subiti dalle abitazioni e dalle imprese danneggiate. Quello che non ci piace ed è quello che abbiamo chiesto con forza per bocca di Errani come commissario delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati e dei cittadini è che noi pretenderemmo che il rinvio, non l'annullamento perché siamo persone serie... Sì, noi le tasse vogliamo pagare ribadito. Il rinvio delle tasse, noi chiediamo che avvenga anche per quelle imprese che sono all'interno del cratere, che seppur non danneggiate nei muri hanno avuto, ed è così per tante, un danno quantificabile almeno a partire dal 30% del loro fatturato e soprattutto parliamo di piccole e medie imprese e secondo noi questa è una richiesta ragionevole, di buonsenso peraltro, guardi, al governo abbiamo spiegato che anche volendo farla in maniera egoistica siccome in quel territorio si produce ogni anno circa il 2% del PIL per un paese in recessione è bene per l'Italia intera che quella striscia di terra parte al più presto quindi noi ci auguriamo che il governo che su alcune cose ha fatto bene su questa è stato fino adesso un po' indisponibile capisca le ragioni e le richieste tenga conto, tra l'altro, che queste le richieste che anche Bersani a nome del PD ha fatto e farà presso il governo per la presenza che abbiamo in Parlamento Grazie Stefano Bonaccini per essere stato con noi ora le previsioni del tempo e poi la linea Matteo Fogacci con lo Sport